Mi chiamo Daniele Carrer, vengo da Venezia, ho 72 anni e avevo bisogno, perché avevo la piorrea, di rifarmi almeno tutta la parte superiore della bocca. Devo dire che è stata la scelta giusta, sono contentissimo della scelta che ho fatto. Il risultato è più che ottimo, sono molto molto contento, soprattutto dal punto di vista funzionale, estetico, mastico benissimo, dal punto di vista estetico, gli amici, le persone non ci credono che ho rifatto tutto il lavoro, perché sono talmente fatti bene, talmente naturali, che non sembrano finti rifatti. Ovviamente ti cambia la vita avere un sorriso perfetto, avere un sorriso nuovo, come quando eri giovane. Te la cambia perché non fai più tutti quei mezzi sorrisini con la mano davanti alla bocca, perché hai un po' di denti sballati, gialli, vecchi, allora sei sempre che ridico la mano davanti alla bocca, ma puoi permetterti di sorridere a tutta bocca. E questa è una grande, grande, grande soddisfazione. Qui in clinica ho trovato un'assistenza, devo dire, ottima, che in Italia, dal mio punto di vista, non ho mai trovato in tanti, tanti anni. Mi sento molto, molto meglio adesso, molto, molto meglio. In realtà con l'assistenza della clinica va tutto benissimo. La mia famiglia, indubbiamente, è molto soddisfatta adesso, è molto contenta. E io sono contento che loro siano contenti, siamo tutti contenti. Sì, sì, io ho un lavoro a contatto con il pubblico e noto, devo dire la verità, noto che quando mi rapporto con il pubblico e sorrido, vedo che il sorriso colpisce, cosa che non succedeva più da tanti anni. Grazie a voi.